Quando arsene da solo Yaya facciamoli provare il tiro di Yaya fuori di pochissimo Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen Come ogni lunedì alle 14 siamo tornati sul PES 2016 e siamo nella Coppa d'Africa semifinali contro la Tunisia Ho un overall molto più alto in attacco con 82 contro 66, 78 contro 72 centrocampo e un overall anche più alto in difesa con 72 contro 62 Quindi partiamo come favoriti, andiamo subito nelle formazioni Ok ragazzi eccoci nelle formazioni, io lascio la Costa d'Avorio così come l'ho utilizzata contro il Mali Anche perché la formazione gira benissimo E la Tunisia invece si schiera con un 4-3-3 con Tufail, Karem, Abdal in attacco Poi Abdal, Fari e Bari a centrocampo Poi Yasin, Gaffar, Ganim e Brahim in difesa e Isman Isham in porta Spero di aver pronunciato bene i nomi ragazzi ovviamente Non sono tunisino quindi se mi sono sbagliato chiedo bene a tutti quanti insomma coloro che li sanno pronunciare magari meglio di me Ok ragazzi andiamo ora nel match Eccoci giunti ragazzi, semifinale contro la Tunisia Attenzione qua Bonito, ha visto dentro lo scatto, Gervinio colpo di testa parata del portiere Primo miracolo del portiere tunisino Attenzione qua Tunisia in avanti, attenzione alla Tunisia Cross dentro, messo fuori Acqua la Tunisia che avanza dentro Acqua la Tunisia Quando Arsenal è da solo Yaya Facciamoli provare il tiro di Yaya Fuori di pochissimo Grande azione di Yaya Toure Mi vediamola ragazzi Guardate ha preso palla da centrocampo Se n'è andato visto che nessuno mi veniva a marcare Tutti pensavano all'attaccante anche se Gervinio è lì Allora gli ho fatto provare la bomba Ma guardate di quanto poco è andata fuori Ancora abbiamo sbagliato Tiro messo fuori Attenzione palla dentro Verso Gervinio Gervinio che velocissimo il tiro di Gervinio C'è il gol 1 a 0 per noi Passiamo in vantaggio Con Gervinio Grandissimo gol 1 a 0 per noi Rivediamo il giro Guardate qua Palla di Volevo allargare su Poi ho visto che Gervinio ha fatto palla Guardate che velocità Un'accelerazione Poi tiro Portiere che ha sfiorato Ma nulla da fare 1 a 0 per noi Cambiano la storia della partita Con un gol davvero pesante Attenzione qua Recuperiamo ancora palla Wilfred Wilfred Fermata all'ultimo ancora Wilfred 2 a 0 Tra doppio immediato di Wilfred ragazzi Rivediamo il tutto Dopo il 1 a 0 Gervinio Guardate qua Il roraccio della Tunisia Che è totalmente in panne E guardate qui Wilfred Viene anche fermato Su un tiro E al secondo Non sbaglia 2 a 0 per noi Attenzione qua Proviamo il tiro Fuori di pochissimo Non è Yaya Se ne va ancora Yaya Grande ancora scatto di Yaya Che è sempre imperioso Yaya Prova ancora il tiro Ora è spinto E finisce Il primo tempo Ragazzi Il primo tempo Assolutissimamente Dominato Dall'inizio Alla fine La Tunisia ha avuto Penso due occasioni Potenziali non sfruttate Per il resto Abbiamo dominato noi Vediamo come Proseguirà il secondo Tempo E queste sono le statistiche Sei tiri noi E solo uno La Tunisia Non sono i buoni Dentro Gervinio Prova il tiro al volo Fermato Quei aiaiature Dentro Ho visto ancora Lo scatto Di Gervinio Che prova il tiro Deviato Parata Da qui Non sono i buoni C'era punizione Quindi proverò A pulgarlo Con Giaia Vediamo se ce l'ha fatto Ragazzi Io qua Non sono molto Bravo Nel battere punizione Io Giaia parte Giaia sulla barriera Quei tiro di prima Ha respinto L'azione qui Erroraccio Da parte nostra C'è il gol Della Tunisia Non me l'aspettavo Ragazzi Erroraccio Da parte nostra Veramente Un erroraccio Infatti Non stavo neanche Commentando Non stavo dicendo Nulla Perché Era un'azione Totalmente innocua Cioè guardate qui Guardate qui Il difensore Si è allungato Malissimo Palla qui Guardate come la perde 2 a 1 Ora devo fare Attenzione Cercare di riportarmi Su Il 3 a 1 Quindi con 2 gol Bonito Wilfred Wilfred ancora Se ne va dentro Wilfred Il tiro di Wilfred 3 a 1 Eccolo qui L'avevo detto Dovevo riportarmi A più 2 E ce l'ho fatta Siamo di nuovo A più 2 Dopo Il 3 a 1 Questa l'azione Questa l'azione Che la ripartenza Che il gol Della Tunisia In realtà Regalo Della nostra difesa Non hanno segnato L'ora La Tunisia Dipende benissimo Palla Con il grande tiro 3 a 1 Per noi Bene fermato La Tunisia Prova ad avanzare Ora Ancora la Tunisia E' in avanti La Tunisia Che non vuole arrendersi E' messo in mezzo Il cross C'è il gol Del 3 a 2 Ragazzi Tunisia Che sta reagendo Il 3 a 1 C'è il 2 a 1 Le aveva dato fiducia E quindi ora Stanno reagendo Abbiamo appena Signato il 3 a 1 E guardate qui La difesa Posizionata malissimo Non so Chi tenesse in gioco Tutti quanti Comunque qui Cross basso Ed è stato facilissimo Per l'attaccante Metterrete 3 a 2 Attenzione Il pallone Che arriva Dalle parti di Gervinio C'è il 4 a 2 Gervinio non era In più di gioco C'è il 4 a 2 Immediato Siamo riportati Sì Vediamo Sì Tratti qua Il lancio Filtrante 4 a 2 Gervinio Lasciato solo E c'è il 4 a 2 Per noi A 4 ore da partimia Cross dentro La Tunisia E' fuori di pochissimo Vicissima 4 a 3 Sono la Tunisia Che prova Massimo Un attacco Guardate qua Grande lotta Ma alla fine La vince Orie Pallone ancora dentro Wilfred resiste a tutto Lancio Bellissimo Dall'altra parte Visto Calu Appena entrato Calu Fuori Calu appena entrato Subito vicinissimo Al gol Rivediamo Perché anche queste Guardate che lancio Bonito Cioè Perfetto ragazzi Un lancio Bellissimo Guardate Calu Stop di petto Tiro Contro balzo Fuori Di pochissimo Gervini ancora Ubriaca Gli avversari Verso Wilfred In pieno C'è il gol Chiudiamo La partita 5 a 2 Partita ormai Conclusa Wilfred Non sbaglia Guardate qua Gervini Umbriaca Con le sue finte Il difensore Guardate qui Ancora una pinta Ancora qui E poi per un po' Bonito Si gira Dipende Benissimo Palla È un gioco Da ragazzi 5 a 2 Sono ancora qui Bonito Visto lo scatto Di Gervini Con tiro al volo Fuori Partita conclusa E infatti Arriva il fischio Finale 5 a 2 Per noi ragazzi Siamo in Finale Partita Nettamente Dominata Ha avuto un piccolo Momento di reazione La Tunisia Ma partita Meritatissima Queste sono le statistiche 15 tiri noi E solamente 4 La Tunisia Quindi vogliamo In finale Ok ragazzi Questo è il tabellone Finale Come vedete È la Nigeria Che ha battuto 1 a 0 L'Egitto Che quindi Ci sfiderà Per la finale Della Coppa D'Africa Quindi ragazzi Nel prossimo episodio Non perdetevi Perché ci sarà la finalissima Costa d'Avorio Nigeria Come sempre Vi invito a lasciare un like Commentate Se avete qualcosa A dirmi Mi farebbe piacere Leggere i vostri commenti Ormai ve lo dico sempre Condividete questo video Se l'avete fatto Iscrivetevi al canale Consigliatelo anche I vostri amici Qui sotto Ragazzi Come sempre Trovate tutti i miei social network Quindi se volete Passate anche dalle mie varie pagine Qui da AngeloNero83 Ci vediamo lunedì prossimo Nel prossimo Nel prossimo Con la finale Della Coppa d'Africa Su PES 2016 E Ciao gamers Ciao Al prossimo episodio